un saluto a tutti voi cari amici e amiche che ci state seguendo e ben ritrovati abbiamo appena sentito le previsioni meteo per questa settimana devo dire però che come avrete potuto constatare dai giornali dai telegiornali che avete sentito questi ultimi giorni la settimana scorsa il maltempo ci ha dato davvero parecchio ha colpito tutta l'italia compresa la provincia di ferrara e come molti di voi avranno anche potuto vedere a proprie spese i danni sono stati notevoli infatti tra giovedì 11 e sabato 13 luglio violenti nubi fragili accompagnati da grandi nel forte vento hanno causato danni un po dovunque sul territorio ferrarese case e magazzini sono stati scoperchiati e conseguentemente ci sono stati anche dei danni alle colture in particolare colpite le zone dell'argentano e del portuense nella notte di giovedì 11 mentre sabato 13 particolarmente colpite le frazioni di malborghetto baura e boara in alcuni casi intere coltivazioni sono andate distrutte come ad esempio il mais dove le piante sono rimaste defogliate stessa sorte purtroppo è toccata qualche campo di bietola danni anche a pomodorico comeri e meloni questi ultimi in piena raccolta ed ovviamente ripercussioni negative anche ai fruttetti è già partita la conta dei danni e a noi non rimane che constatare questo ulteriore problema che si è abbattuto sul settore agricolo che ancora una volta deve rimboccarsi le maniche siamo sicuri che ce la farete per cui anche noi vogliamo contribuire e darvi una mano entrando subito nella parte tecnica di oggi sentendo da clegliatosi un aggiornamento sui modelli previsionali di insetti e funghi informazioni fondamentali per gestire al meglio la difesa e a proposito di difesa sentiremo il medico delle piante frutticole con i trattamenti da fare in questa settimana e ben trovati a tutti e anche oggi iniziamo l'aggiornamento relativo ai modelli previsionali parlando di maculatura bruna abbiamo appena avuto un periodo a medio alto rischio grazie alla bagnatura determinate dalle piogge del fine settimana scorsa però il volo dei conidi infettanti è rimasto basso ricordo a tutti che questi dati vengono comunque periodicamente aggiornati e li potete consultare sul sito della provincia www.provincia.fe.it sezione agricoltura bollettini fitosanitari alla voce modelli previsionali e ascoltiamo ora le indicazioni per la difesa dal medico delle piante che per questa settimana è andrea rimondi un saluto a tutti come di consueto cominciamo parlando di malattie fungine delle pomace in particolare di maculatura bruna del pero in provincia di ferrara la situazione è molto buona per fortuna fino adesso sono veramente pochi i danni da maculatura sono poche le avvende con la presenza di questa malattia e comunque questa presenza è molto scarsa va detto però che siamo ancora in una fase potenzialmente rischiosa e quindi se si verificheranno le condizioni predisponenti per le infezioni che come da alcune settimane andiamo dicendo sono le elevate bagnature dovute sia a pioggia che a rugiade o ai righefioni sopra chioma va ancora effettuata una difesa il prodotto base per la difesa è sicuramente il captano in questa fase tra l'altro il servizio fitosanitario regionale la scorsa settimana ha concesso una deroga per l'impiego di due interventi in più rispetto a quel quanto diceva il disciplinare di produzione integrata e quindi il numero massimo di interventi con il principio attivo captano viene portato a 8 e non più a 6 un accenno vorrei farlo anche su ticchiolatura perché già da un paio di settimane non ne parliamo più a differenza di maculatura che è poco presente ticchiolatura invece è abbastanza presente soprattutto su melo ma anche su alcune varietà sensibili di pero e anche qui la difesa non va completamente abbandonata ma in previsione di eventi piovosi o di righefioni sopra chioma qualche intervento dove appunto la malattia è presente va ancora effettuato perché le infezioni secondarie potrebbero ancora attaccare i nostri frutti